This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck and a rooster. Ridiculous! Check out Snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you. Annata d'oro per Kendrick, inutile a dire questo dissing, lo ha proprio messo nella condizione di dare il meglio di sé, non si aspettava altro, non me l'aspettavo onestamente perché, ripeto, Drake si è difeso bene contro gli altri rivali, dissi che adesso che arriva Kendrick so cazzi, però nel senso non mi aspettavo che ci sarebbe stata questa rivoluzione nella discografia di Kendrick Lamarck che adesso veramente ha numeri praticamente simili a Drake, incredibile, cioè ne aveva la metà, la metà, cioè praticamente gli ha mangiato la fanbase, mentre Drake ha veramente perso ricredibilità, nel senso che se prima tutto ciò che faceva era il genio, adesso, cioè nel senso, non è più così scontato, avanti, cioè a volte basta poco per aprire gli occhi, ma del resto perché sono ragazzi giovani che fanno il mercato facilmente manipolabili, facilmente gestibili, parla comunque di persone che, insomma, gli fai vedere un po' di rap fatto bene, gli fai sentire un po' di skills fatte bene e subito vanno dall'altra parte, cioè non sanno cos'è la fedeltà, non sanno cos'è la lealtà, non ti ascoltano perché li hai aiutati in un momento di difficoltà, ti ascoltano per flexare, per proxare, quindi di conseguenza poi se c'è abbastanza hype dall'altra parte si spostano, è chiaro, ma insomma Not Like Us che è diventato il più importante debutto su YouTube, un video che è un nuovo sberleffo nei confronti del rivale nonostante adesso comunque tra case discografiche se la son vista, se la son risolta, insomma, però il singolo è bello importante e di canzoni adesso vediamo cosa uscirà, però sicuramente adesso Kendrick gli si è aperto tutto un nuovo mercato e questo è importante, insomma, tra chi ne esce vincitore e sconfitto, a volte si dice non ci sono sconfitti in questi casi e io non credo proprio, non credo proprio, vediamo che cosa ci riserverà per il futuro, il buon Kendrick che tra l'altro nel senso fa quel genere di rap che a molti stanca, a molti dicono che sì va bene, però non è che diciamo posso stare là a sentire lo stesso Jake Lafuri, ha detto, cioè, nemmeno posso ascoltare Kendrick Lamarre a terza taccia mi sono rotto i coglioni quindi chissà cosa sta succedendo tra Rakim che torna con l'album, Kendrick che eclissa lo stile Drake chissà che non ci sarà una nuova ondata basata veramente sul rap oppure semplicemente un sottomercato che non ha mai smesso di funzionare ma meno male, nel senso che preferisco questo a tutta l'andata trap che io non sopporto più ma anche quella fatta bene, ma lo stesso Lazza che io adoro, l'ho sempre portato rispetto eccetera però l'altra sera stavo in una pizzeria, stavo mangiando una pizza da solo, prima di uscire avevo fame ho detto, mi siedo qua, prendo sta pizza e sottofondo c'era sta merda di playlist tutta trap io volevo dire basta vi prego, mi sono messo le cuffiette e mi sono messo a vedere camera e caffè su Prime veramente dopo un po' mi rompo i coglioni, niente contro nessuno, niente contro il singolo però basta, sono proprio stufato, mi sono stancato voglio un po' di pop a questo punto, voglio un po' di roba un po' più relax c'è nel senso, questa trap che si mischia al pop, queste melodie, proprio tutti i coglioni a questo punto facciamo un rap pacuto, grezzo, che si serve comunque più allenamento per ascoltarlo per capirlo, però almeno ha senso, si basa sulla parola, sono dei grandi parolieri e allora a questo punto è arte, è arte, è viva l'arte sul freddo pavimento dell'ingresso di un palazzetto, un uomo si risveglia la sua testa è immersa in una pozza di sangue fresco qualche passo più in là, sua figlia giace senza sensi sotto di lei, un'altra macchia rossa quando la vede, il mondo non è più lo stesso tutto, dentro e fuori, è cambiato è come se una mano invisibile gli avesse afferrato il cuore e lo stomaco, rivoltandoli l'uomo è terrorizzato, si sente in colpa perché è stato lui a prendere i biglietti per il concerto di quella sera io sono Valentina Poddiche e questa è solo un'anteprima di Mayday ascolta Mayday dal 10 luglio sulla tua piattaforma di podcast preferita